... ... ... ... è un riconoscimento intanto della centralità di Aquileia del Prevenza Giulia ma non soltanto in un omaggio, in un ricordo ai caduti che ha difeso l'Italia ma soprattutto un richiamo ai valori di unità nazionale, unità tra le istituzioni e i cittadini e penso che siano valori che ancora oggi hanno un grande significato e dobbiamo prenderli di insegnamento è proprio un richiamo all'unità, alla condivisione, alla difesa di se stessi e degli altri dalla pandemia non si esce da soli non si esce con l'individualismo non si esce tantomeno con le menzogne ma si esce con la verità della scienza e dei fatti andiamo qui andiamo qui Grazie.